Allora, rieccoci qui per un altro momento skincare, perché Michael ha la pelle un po' secca È proprio secchissima, da quante skincare ti hai fatto dall'altra volta che mi hai stortito tutti gli occhi Dai, facciamo la skincare, perché oggi ha preso un po' di freddo e ha la pelle qui un po' secca Andrò ad usare una crema che va a rinvigorire e a idratare tutto il viso, quindi avrei la pelle bella liscia e distesa, ok? Cosa fondamentale, Michael, come sempre, mi raccomando, chiudi bene gli occhi Ok No, no, una volta no, eh Ma perché, scusa, guarda che Ma butta gli sticosi Ma che cosa, prodotti devo buttare? I prodotti, sì Perché? Perché spendi soldi inutili Ho capito Ma guarda che carino Mi fa imbruttire Se la prossima volta mi chiedi una skincare, io non la faccio Ma perché? Perché una volta mi fa stortire l'occhio Una volta mi fa diventare una scimmia Ma se me vuoi che è farmi diventare una ciambella